Il conto alla rovescia di Trump contro TikTok è cominciato. Il Presidente degli Stati Uniti ha firmato un doppio decreto che vieta tra 45 giorni ogni trattativa per l'acquisto di TikTok e WeChat da parte di persone ed entità soggette alla giurisdizione statunitense, si legge nel decreto. Dopo aver deciso che un'azienda americana deve acquistare le due note app Made in China, Trump stabilisce un tempo massimo, un mese e mezzo, oltre il quale se TikTok e WeChat non saranno state vendute verranno messe al bando e bloccate sul territorio americano. Ragioni di sicurezza nazionale. La Casa Bianca intende così far accelerare le trattative da parte di Microsoft interessata da tempo all'acquisizione di TikTok.